A Gioia Tauro sospiro di sollievo al quartiere Fiume e la notizia della realizzazione dell'isola ecologica provvisoria in un terreno confiscato lungo la provinciale 1 e dell'accordo che il sindaco Giuseppe Pedasta, cercando di chiudere con l'ASI per realizzare l'impianto definitivo nelle adecenze dell'inceneritore di Contrada Cicerna, hanno una conseguenza immediata, la definitiva rinuncia al progetto, portato avanti dall'amministrazione Bellofiore, di realizzare l'isola ecologica nell'ex mattatoio comunale a ridosso del quartiere Fiume, i cui abitanti si erano ribellati alla decisione con una decisa protesta. Con una delibera di giunta del 2 settembre è stata infatti approvata la proposta che prevede il cambio di destinazione d'uso di un immobile consegnato all'ente dell'Agenzia Nazionale dei beni confiscati il 22 luglio 2015, con la possibilità di utilizzo limitata ai soli fini sociali. Il fondo si estende per circa 18.000 metri quadrati lungo la provinciale 1, ex statale 111, ed è appartenuta alla potente cosca mafiosa dei Rugolo, alleati con l'Andrina di Mammoliti di Castellace. Una soluzione sicuramente provvisoria, visto che l'idea principale è di costituire un'azienda agricola e usare l'intero terreno per il reintegro degli ex detenuti e dei soggetti svantaggiati. Sembra dunque definitivamente scongiurata l'ipotesi dell'apertura di una piattaforma nell'ex mattatoio nel ridosso del quartiere Fiume, uno dei rioni più popolosi di Gioia Tauro già vessato negli anni dagli insopportabili miasmi provenienti a cadenza ciclica dal vicino megadepuratore e dal torrente Budello. L'amministrazione si è infine impegnata a preparare in tempi brevi anche un piano organico strutturale della raccolta dei rifiuti urbani. Emergerebbe l'intenzione di ragionare su un full service che possa garantire tutto il ciclo della nettezza urbana per incamerare finalmente i proventi della differenziata e che porterà efficienza, mano d'opera specializzata e maggiore produttività.